Sono l'ultimo pianista al mondo che potrebbe incidere queste pagine, l'ultimo che ha avuto un maestro nato nel 1858. Aveva settant'anni lui, io soltanto otto e suonavo già benissimo la prima e la terza ballata, tutti i preludi e buona parte degli studi. Il mio maestro conobbe list Puccini ed ebbe consuetudine con Brahms, di fronte al quale avrebbe voluto suonare il suo primo concerto per pianoforte e orchestra. Mi diceva sempre, faccia attenzione a Schumann, può indurre pensieri foschi e oscuri. Ci sono le tenebre nella mente di Schumann e dunque nella sua musica. E mi recitava Baudelaire a memoria naturalmente. Io mi impaurivo e nascondevo le partiture di Schumann e Zio Arturo senza saperlo le ricomprava. Tante cose non ho suonato nella mia vita, perché le detestavo o perché mi impaurivano, o ancora perché c'erano dei passaggi che io non avrei mai scritto. Ho sempre trattato la musica come qualcosa di vivo, che io devo scegliere a dispetto della grandezza di qualunque compositore. Oggi i pianisti non si permettono opinioni, al massimo silenzi o missioni, una forma frusta del coraggio di scegliere. Li capisco e non li biasimo troppo. Ho sentito l'odore delle vecchie stoffe di Brahms sui vestiti del mio maestro. Ho sentito il profumo di una vecchia Europa che non c'è più da molto tempo. Qui sento solo l'aria tersa di un luogo troppo salubre e un po' noioso. Neppure più il peccato mi sorregge, quello che mi faceva suonare così bene, perché il mio virtuosismo era la mia grande arma di seduzione, l'unica che mi sapevo concedere. Ho sentito l'odore delle vecchie stoffe di Brahms e nelle donne ogni tipo di acqua di colonia, anche le più volgari senza curarmene. Ho fatto grandi i miei desideri e le mie debolezze barattandoli con un pensiero forte e un talento inarrivabile. Ero il regista di un mondo che scompariva. Sono l'ultimo che forse chiuderà la porta e lascerà tutti gli altri fuori ad ascoltare pianisti mediocri, ma dotati di tecnica decente, quella che basta per suonare tutte le note scritte in una partitura. Il resto lo faranno gli ingegneri del suono, quelli che sapevano trasformare Gould in un Frankenstein del pianoforte. E mi rimane il dubbio che persino Solange sarebbe rimasta fuori da quella porta, perché il mio è un mondo di codici che non capisce più nessuno, di cose scomparse, ma che per merito della mia celebrità rimangono nell'aria e posso ancora sentire musica che non suono più da anni, incontrare persone che mi parlano di vecchi concerti, brani dimenticati, compositori di cui non eseguo una sola pagina da cinquant'anni. Persino ai visi femminili, che hanno riempito gli spazi lasciati liberi dalla musica stento ormai a ricordarli, perché con gli anni sono diventati solo dei gesti, movimenti sensuali, tra loro assai simili. L'altro giorno ho ricevuto una lettera senza mittente. La scrittura della busta era femminile. Il francobullo e in alfabeto cirillico diceva che era stata spedita dalla Russia. Non l'aprì subito. Sperai ancora in una rivelazione. Volevo poche parole del tipo «Sappiamo che hai il manoscritto». Oppure «Sono nei voti di Andrei la merita di leggere la sua ultima lettera». Invece era un avvocato di Mosca, talmente povera da non potersi permettere neppure la carta intestata. Si riferiva ai diritti di una mia vecchissima incisione di Mozart appena uscita in Russia. Lasciai cadere ogni illusione. Se una calligrafia delle passioni esisteva, forse ero davvero l'ultimo capace di leggerla. Oggi è tornato il mio accordatore. È come un medico premuroso che ogni giorno passa per sapere se tutto va bene. È per assicurarmi. Quel terzo fa del pianoforte non suona ancora come dovrebbe e dire che il fa è la nota che dà la tonalità alla mia ballata. Ci siamo guardati. Lui ha controllato ancora il rullino e poi mi ha detto che quel tipo di stengui può avere un difetto simile, ma che spesso passa assai rapidamente e da solo. E poi non torna. Gli ho chiesto con un'ansia comprensibile. Chi può dirlo? Mi ha risposto. Talvolta tutto va a posto. Provi, maestro. Mi sembra che ora suoni senza fruscii. Mi ha lasciato il posto sul seggiolino e ho suonato quel fa una, due, tre volte, premendo il pedale di risonanza e ascoltando con attenzione l'eco che si diffondeva nel salone come fosse un profumo. Non udivo alcun fruscio. Sembrava perfetto. Il mio accordatore ha sorriso senza alcun compiacimento. Non è mio il merito, maestro. Questi pianoforti hanno qualcosa dentro che li rende saggi. Quando è il momento smettono di fare i capricci e si comportano da bravi strumenti. Ho riprovato ancora, non ero convinto. E mi è parso di risentire il fruscio del feltro, come fosse un malato immaginario che cerca a ogni costo il sintomo che non ha e si prova più volte la temperatura finché non pensa di intravedere qualche linea di febbre. Il mio accordatore scuoteva la testa, con una confidenza lieve affinata con gli anni e la consuetudine, ma quando comincia a riporre i suoi attrezzi e lo fa con calma, precisione e garbo, vuol dire che la visita è terminata. Per quel giorno ero stato viziato anche troppo. Poi mi ha guardato interrogativo. Maestro, posso confessarle una cosa? Il fatto che non osasse, che quasi esitasse, mi incuriosiva. Certo, certo! Ho risposto fingendo distrazione, mentre provavo la morbidezza del pedale di risonanza. Ho l'impressione che lei voglia quella nota imperfetta, che lei cerchi a tutti i costi quel sottile fruscio, anche quando non c'è. Ha fissato muto, attento, forse anche con severità, mentre lui continuava. In quel fruscio lei cerca l'imperfezione. È nell'imperfezione una forma della libertà. Con quella nota, con quel terzo fa, inizia la coda della quarta ballata che Chopin dedicò a Solange Dudevan. Aveva ragione. Soltanto un fruscio mi ha liberato da quell'affezione dell'anima, da quell'intreccio di destini casuali che ho inseguito in tutti questi anni. Così ho capito che il mondo è soltanto un fruscio impercettibile, dentro una nota, dentro una vibrazione perfetta. E per la prima volta nella mia vita ho provato sollievo.